Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono leggermente in ritardo ma ecco il video dei prodotti smaltiti nel mese di febbraio sì perché siamo a marzo, sono abbastanza direi come sempre giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi mostro dei prodotti che già esiste alla recensione all'interno del mio canale vi inserirò la nuvolina che vi rimanda direttamente al video recensione dove parlo del prodotto al minuto esatto settato al minuto esatto così potete cliccarci e andarci direttamente dei prodotti invece che non esiste la recensione darò delle brevi delucidazioni sul prodotto se non c'è la recensione è perché questo prodotto l'ho comprato senza mostrarvi nel video acquisti e quindi l'ho utilizzato, non vi ho fatto la recensione mentre lo utilizzavo e quindi ora l'ho finito, l'ho inserito all'interno della busta e ve ne parlo ora ho difficoltà oggettive a capire se sono un po' imbilico comunque andiamo avanti, anzi no, partiamo prima cosa che esce è questa allora è della Biblos, elementi Biblos si chiama ghiaccio, è un latte corpo era un bel boccidione da 400 ml l'ho trovato, c'è la recensione di questo prodotto ma piccola delucidazione l'ho trovato per il periodo invernale poco idratante per il periodo estivo per il quale l'avevo comprato nel periodo in cui l'avevo comprato era perfetto invece finendolo di utilizzare durante i periodi autunnali e invernali l'ho trovato poco idratante poi della Roche, non so come si pronunci in italiano dove sta? mousse detergente energizzante mi è piaciuta molto questa mousse perché è molto delicata però deterge bene ed efficace poi è un contenitore da 150 ml ma essendo mousse all'interno si presentava liquido però quando si andava a spruzzare quindi si attivava l'erogatore usciva una mousse quindi il prodotto all'interno anche se il contenuto è poco dura per tantissimo poi ho deciso di buttare questa specie di spugnetta di plastica che compra insieme a un set per anticelluite della Cuties questa parte qua aiutava a fare il massaggio energico per attenuare un po' gli inestitismi e da quest'altro lato era un come si dice? faceva un effetto scrub mi è piaciuta tantissimo per l'effetto scrub perché essendo poi in plastica io me la portavo in palestra a casa la usavo raramente e essendo plastica non mi si impregnava di acqua sotto la doccia quindi la potevo direttamente rimettere in borsa della palestra e riportarmi a casa senza rischiare di anacquare tutto stava cadendo poi della Stenom ho finito un ennesimo bociglione di lozione per piedi si chiama Cool A-Pid non so io adoro questa crema come mio solito ha fatto la fine squartata ha fatto una brutta fine dovrei comprarla però ora sto usando una crema provetta della sto guardando là perché ce l'ho sulla sul mio angolino è una provetta della come ti chiami? Yves Rocher e poi per le gambe ho dei campioncini che utilizzerò un pochino più avanti che aiutano proprio a rivitalizzare un attimo le vene eccetera quindi credo che per ora questo prodotto lo bypasso e lo ricomperò più avanti poi della Deborah 24 ore Perfect Primer base trucco levigante uniformante da 18 ml era una base della Deborah da mettere sotto il trucco anche questa ha fatto la fine cioè Jack lo squartato mi è piaciuta molto l'ho usata ovviamente non tutti i giorni non ogni volta che facevo la base perfetta ma nelle occasioni quindi mi è durata praticamente una vita forse la vorrei iniziare a utilizzare all'inizio quando apri il canale quindi ormai credo 5 anni fa qualcosa del genere e mi è durata ora sto usando una della essence che ancora devo capire poi della Garnier della linea Bioactive efficacia provata crema protettiva protettiva idratante pelli normali o miste è una crema era una crema viso mi è piaciuta aveva un buon odore che si sente ancora tuttora poi ho finito eccolo qua non ho che ho finito un contenitore per sapone ho finito il sapone biologico all'olio di oliva mamma mia ho dato una botta all'olio extravergine di oliva ho conservato senza ancora lavarla devo ancora lavare oppure la conserverò ho conservato la scatolina sporca per ricordarmi di dirvi che avevo finito questa bellissima saponetta che mia sorella mi ha preso in Turchia sorella se sei all'ascolto la prossima volta che vai è un bel rappensiero che mi potresti riportare non mi piaceva un casino poi ho finito una confezione mini di deodorante della Nivea stress protect ho 48 ore efficace anche nei momenti di stress delicato sulla pelle complesso di zinco sono quella piccolini da 25 ml la compra per andare per usarla durante i viaggi poi ho continuato ad usarla a casa perché era veramente efficace e io poi non uso uso sempre i prodotti o roll on come in questo caso con il liquidino all'interno è rimasto un fondino ma è difficile da prendere o i roll on classici che anche ora sto usando un roll on spray non ne uso quindi chi usa questi prodotti sa che ce ne vuole un bel po' per finirli quindi l'avevo comprato per andare a portarmene in vacanza alla fine l'ho utilizzato a casa perché c'era perché c'era ne compravo un altro quando avevo questo qua quindi ho finito di usare questo poi ho finito i patch togli punti neri dell'essence sia per il naso che per il mento che adoro ho finito della Wicon che ho visto che ha cambiato nome non lo sapevo devo fare un giro per vedere l'insegna nuova al negozio era il numero 228 un bellissimo color nude io adoro questi color nude poi mi piacciono questa è l'unica confezione di smalto della Wicon non so come si pronuncia Wicon YJcon Wicon non lo so ma comunque mi è piaciuto tanto ultima cosa che ho deciso di buttare l'avevo detto anche in un videotrucco è questo piccolo pennello che era setole a lingua di gatto ma mi si sono aperte le setole quindi praticamente decideva lui dove mi appoggiare il prodotto e mi sporcava tutto il make up ok scatolina dei prodotti finiti è vuota spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato prova confutata che i prodotti si possono smaltire non c'è bisogno degli acquisti folli non so già avere un solo primer e portarlo avanti è cosa buona e giusta avere un solo nude smalto nude e portarlo avanti è cosa buona e giusta e magari quando finisce se è piaciuto il prodotto devi comprarlo o provare degli altri è inutile accumulare cose su cose mascara su mascara non so ma cosa mi viene in mente perché non so uno mascara la voglio provare aspetta quanti ne hai a casa aperti rilassati ne hai tre quattro finiamo prima quelli magari dopo ne compriamo un altro io per esempio di mascara ne ho due in questo momento aperto uno normale e un top coat vanno bene fra un po' finiranno e ne comprerò un altro per provare un'altra tipologia ho voglia di chiacchierare ok io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazze in gamba